Buongiorno fratelli e sorelle, buona quinta domenica di Pasqua. Benvenuti nella nostra famiglia, anzi bentornati. Per chi non avesse visto l'altro video, noi ci ripresentiamo. Io sono Charlie, dal Veneto, e questa è la mia famiglia. Ciao, io sono Chiara. Ciao, io sono Michael. Ciao, io sono Giulia. Ciao, io sono Isabel. E' con noi veramente una grande gioia riavervi qui, da noi, per ospitare una breve preghiera. Allora iniziamo questa preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E facciamo anche un appello. Se anche tu ti sei imbattuto in questo video per caso, se magari non hai mai pregato in vita tua, fermati un attimo. Stai con noi, perché ci potrebbe essere un momento anche per te. L'ode e gloria a te, Signore Gesù. L'ode e gloria a te, Signore. In questo periodo difficile, riceviamo molte testimonianze di fratelli che sono nello sconforto, che sono nella solitudine, che hanno paura di perdere il loro lavoro, che hanno paura di riaffrontare la quotidianità. Allora noi oggi, insieme, vogliamo bussare alla porta del Padre per farci consolare e confortare. Sì, Signore. Gesù, tu nel Vangelo della liturgia della settimana scorsa ci hai detto che tu sei quella porta che entra attraverso di te e salvo, entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Signore, noi bussiamo a questa porta perché vogliamo immergerci nel tuo amore. Lo facciamo con il canto 499 Tu sei la mia pace Tu sei la vera gioia Tu sei il Signore Tu sei la mia speranza Tu sei la mia salvezza Tu sei il Signore Ed io mi perdo nel tuo amore Guardando la tua santità Un canto nuovo nasce E l'uomo vecchio E l'uomo vecchio muore Risplendo della grazia Tua Mi perdo Nel tuo amore Resta con me per sempre Il mondo mi per sempre Tu sei il Signore Il mio cuore arde Se ascolto la tua voce Tu sei il Signore ed io mi perdo nel tuo amore guardando la tua santità un canto nuovo nasce e l'uomo vecchio muore risplendo della grazia la tua mi perdo nel tuo amore mi perdo nel tuo amore Gesù 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 ci perdiamo nel cuore del tuo amore ma per ritrovarci per riscoprirci figli nel tuo figlio chi vede te vede il padre mostraci ancora oggi il volto del nostro padre che è amore che non ci lascia soli che non ci lascia nella solitudine ma si prende cura di noi ci solleva alla sua guancia l'odio a te signore l'odio a te signore siamo come il tuo popolo nel deserto e ci viene una tentazione quella che è stata descritta nel libro dei numeri quando il popolo si è visto assetato in mezzo al deserto ha cominciato a protestare si è adressato a te come un padre cattivo e ha detto ma come se ci facciamo qui in mezzo come mai è capitata a noi questa sventura anche noi lo stiamo facendo in questo periodo padre e abbiamo bisogno di fare come Mosè permettici di farlo lui ha percosso la roccia perché un fiume d'acqua viva scorgasse da quella roccia e quella roccia sei tu Gesù allora anche noi percuotiamo bussiamo a quel cuore che è sempre pronto a squarciarsi per noi a far uscire un fiume di acqua viva un fiume di spirito santo in cui possiamo veramente tuffarci per trovare riparo e conforto invochiamo lo spirito santo e facciamo con il canto 493 vieni santo spirito vieni in voi un fiume d'acqua viva vieni santo spirito come un fiume d'acqua viva come vino nuovo come balsamo d'amore vieni vieni e regna su di noi vieni vieni spirito d'amore Dio consolatore Dio consolatore vieni e battezzaci nel tuo amore vieni spirito d'amore vita che da vita vieni e regna su di noi nel tuo amore nel tuo amore vieni vieni nel tuo amore vieni 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 santo spirito d'amore come il crisma di salvezza vieni 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 la tua amore Dio consolatore vieni vieni che da vita vieni 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 che da vita vieni e regna su di noi nel tuo amore vieni 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 Tu, amore, vieni, vieni, vieni. Riceviamo la pienezza dello Spirito Santo, ti adoriamo, benediciamo questa presenza, Santo Spirito. Riceviamo quest'acqua senza misura. Non riceviamo un piccolo bicchiere, ma un fiume d'acqua viva, un fiume di benedizione. La parola ci ricorda, da quella roccia che fu percosa, uscì un fiume d'acqua viva. E tutti potevano bere, tutta la comunità, e anche tutti, tutto il bestiame. E questa pienezza è per noi. Signore, non farci dubitare della pienezza dello Spirito Santo, dell'abbondanza della Tua mano. Molti fratelli sono scoraggiati in questo momento. E magari pensano che quest'acqua non sia per loro. Magari si chiedono, ma c'è quest'acqua anche per me? I fratelli e le sorelle, che mai hanno pregato, si chiedono, c'è quest'acqua anche per me? E anche per me è questo dono? Sì, è per te la promessa. È per la tua famiglia. È per tutti quei tuoi amici. È per tutti quelli che conosci. Ricevi la pienezza dello Spirito Santo in questo momento. Vieni, vieni. Intercediamo. Facciamo un momento di intercessione. Alziamo le mani per tutti i nostri fratelli, per gli sfiduciati, per quelle gambe che si sono infiacchite, per quei cuori che si sono chiusi, per chi non vede più la speranza. Vieni, Spirito Santo. Preghiamo, preghiamo per tutti quelli che hanno bisogno di nuova speranza, per quelli che non sanno se troveranno un lavoro, per quelli che non sanno più se uscire, non hanno più il coraggio di uscire, di riaffrontare. Vieni, Spirito Santo. Soprattutto in questa realtà, vieni come un fiume d'acqua viva. Vieni, Spirito Santo. Vieni come un fiume d'acqua viva. Riceviamo la pace dello Spirito Santo. Quella pace che dice la parola supera ogni intelligenza e quindi ogni preoccupazione e custodisce ogni pensiero. Amen. Anche quelli che in questo momento sono leciti, i dubbi, le paure. La Tua pace, Signore, li custodisce. La Tua pace supera ogni preoccupazione. La Tua pace supera ogni pensiero, ogni intelligenza. Grazie, Signore. Gustiamo questo momento, fratello. Gustiamo questo momento, stiamo con lo Spirito. Lasciamo che questo fiume entri nello stagno del nostro cuore e quest'acqua nuova che arriva porta via la vecchia. Lo rigenera da vita nuova, da pensieri nuovi, da nuovo coraggio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Facciamo scendere la parola di Dio nel nostro cuore come un balsamo con le parole del Salmo Il Signore è il tuo custode Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte Il Signore ti custodirà da ogni male Egli custodirà la tua vita Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri da ora e per sempre Amen Gloria a te, Signore. Amen Grazie, Signore, che ci hai fatto entrare nel tuo cuore e ci hai fatto trovare la pace Grazie, Signore. Ora, Signore, facci uscire ma usciamo rinnovati dal tuo cuore ristorati e abbiamo la fiducia la fiducia che abbiamo un Padre che non ci farà mancare niente Amen Lode a te, Signore. Lode a te, Signore. Amen Lode a te. Gioiamo insieme. Ne facciamo con il canto 475 Cieli rodate il nostro Creatore Cieli celesti rodate, Signore Tutto lodi Dio Lodi la luna, ogni stella ed il sol Lodi noi cieli e le acque del mar Tutto lodi Dio Sei potente, sei glorioso Vittorioso Vittorioso, Dio pietoso Re dei cieli In battaglia Vittorioso Grande insieme Re della terra Alleluia Alleluia Gesù è il Signore Grazie fratelli e sorelle di essere rimasti con noi Vi salutiamo con un augurio Ricordiamoci che non c'è nessuna solitudine che non possa essere abitata da colui che è il dolce ospite della nostra anima Lo Spirito Santo Stiamo saldi in questa certezza e per noi la promessa per le nostre famiglie Della presenza dello Spirito Santo Che come sempre intercede per noi presso il Padre Grida, Abba E non ci farà mancare niente il Padre del Cielo Ciao a tutti Ciao Ciao